Dopo l'instaderità anche marcata che ha caratterizzato le giornate centrali di questa settimana, attualmente il fine settimana si configura con tempo più stabile grazie all'afflusso di correnti nord-orientali portate dalla depressione, attualmente sullo Ioni, in spostamento verso Grecia e Maregeo. Avremo quindi per sabato c'è l'imprevalenza poco nuvoloso salvo qualche nuvolamento temporaneo e sulla regione probabilmente maggiore variabilità locale in montagna, probabilità di precipitazioni rimane molto bassa se non assolutamente assente. Temperature in lieve aumento ma ancora gradevoli con massimo intorno ai 28 gradi sulla pianura, intorno ai 26 lungo la costa dove soffierà Borino tratti al mattino. La giornata di domenica vedrà ancora c'è l'imprevalenza poco nuvoloso salvo qualche locale a nuvolamento in passaggio da nord verso sud e in generale maggiore variabilità sulla montagna. Probabilità di precipitazioni sarà molto ridotta e limitata forse a qualche debole piovasco in montagna specie verso il cadore nel pomeriggio anche in questo caso però valori probabilità molto contenuti. Temperature in ulteriore lieve aumento con ventilibrezza e rivedremo i 30 gradi probabilmente sulla pianura limitandosi intorno ai 27 sulla costa. Settimana prossima anticiclone delle azzorre e caldo estivo in arrivo secco inizialmente più umido invece verso la seconda parte della settimana. E dell'osservatorio metodo dell'ARPA Arturo Pucillo vi saluta.